Se la vita privata di Belen Rodriguez è da sempre chiacchieratissima, quella del suo ex marito lo è un po' meno. Stefano De Martino, infatti, da quando è finito il matrimonio con la showgirl argentina, ha cercato di mantenere un profilo piuttosto basso. Non ha mai presentato ufficialmente fidanzate o donne con le quali si è frequentato e per questo gli sono stati attribuiti decine di flirt fasulli. Una conoscenza, però, che è stata sicuramente approfondita è quella con la modella e stilista Gilda Ambrosio. I due, nel corso dei mesi passati, sono stati più volte pizzicati insieme. Ma dopo le prime foto e video in compagnia, della coppia non si è più saputo nulla. Fino a Capodanno. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, infatti, hanno passato le feste insieme in montagna, A.S.T. Moritz. Lo dimostrano le decine di foto e video pubblicati fra le storie di Instagram dalla stilista. Con loro c'erano alcuni amici, la sorella di De Martino e a sorpresa anche il piccolo Santiago. E proprio la presenza della sorella del ballerino e del figlio fa pensare che Gilda sia già stata presentata in famiglia. Insomma, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono a tutti gli effetti una coppia. Felice.